Musica E saluto ragazzi e bentornati Finalmente in questo nuovo video Lo aspettavate da quasi un mese Ma finalmente eccoci con la recensione Del MacBook Air 2018 Ed eccolo qui Stavamo aspettando un suo refresh da più di 3 anni Anche se tecnicamente ha ricevuto Un piccolo aggiornamento hardware nel 2017 Ma il MacBook Air Sembrava essere veramente il MacBook maledetto Perché Apple si ostinava A venderne un modello obsoleto Con il vecchio design Il vecchio layout di porte Uno schermo assolutamente anacronistico E la cosa strana è che continuo a venderlo Tutt'ora che è uscito il nuovo modello A più di 1100 euro Non pensateci nemmeno ad acquistarlo adesso Perché tutti i riflettori sono puntati Sul nuovo MacBook Air del 2018 Che ha ricevuto un nuovo look Un nuovo hardware Uno schermo degno di essere nel 2018 E al prezzo iniziale di 1379 euro È ufficialmente il laptop più economico Che si possa acquistare di Apple Vediamo quindi le mie considerazioni Dopo tre settimane abbondanti di utilizzo E ormai un po' tutti lo sanno Il mito che ha sempre reso famoso il MacBook Air Il suo scopo diciamo È che è sempre stato considerato il portatile In grado di fare un po' di tutto Escludendo lavori pesanti E con questo nuovo Apple Non ha sfatato tale mito Ora infatti assomiglia a un MacBook Pro Ha un nuovo schermo da 13.3 pollici Di risoluzione 2560x1600 pixel E la configurazione base viene venduta con Un processore i5 a 1,6 GHz Turbo boost fino a 3,6 GHz 8 GB di RAM E un SSD da 128 GB Ah e una piccola curiosità sul processore È un Amber Lake Quindi appartiene all'ottava generazione Ma di tipologia ultra low power Fatti apposta per i laptop Che vogliono consumare poco E si presume essere l'8210Y Un chip però leggermente modificato Fatto apposta per questa macchina Inoltre come novità ci hanno buttato dentro Il Touch ID Che prima era un'esclusiva del MacBook Pro La tastiera Butterfly 3.0 Alla quale ormai siamo abituati Da due annetti circa È un po' più naturale questa nuova versione Però diciamo che ormai mi viene spontaneo Scriverci sopra Però le prime volte ricordo che dovetti un po' abituarmi E invece mio dio Il fantastico trackpad Force Touch Che è gigantesco Ed è la cosa più comoda Che sia mai stata inserita in un portatile Per non menzionare ovviamente Un paio di speaker decisamente di qualità E come ho appena detto Lo scopo del MacBook Air Sono sempre stati i lavori di ufficio Quindi editing di documenti Per esempio con Google Docs Microsoft Office Word O pages di Apple iWork Compilare fogli in Excel O il Numbers Creare presentazioni di PowerPoint Navigare su internet Oppure è perfetto anche per chi deve gestire un blog Un sito web Rispondere alle email Guardare Netflix O in generale gestione dei file La differenza fondamentale però È che nel momento in cui avrete esigenza Di eseguire delle piccole operazioni grafiche Come per esempio L'editing foto Con Adobe Lightroom O Adobe Photoshop Oppure anche l'editing video In Full HD Questo ve lo reggerà Senza problemi Lo potete fare Anzi vi dirò di più Se utilizzate Final Cut Di Apple Per l'editing video In molte prove Ha retto anche un editing in 4K Però facendo un po' di fatica Ce la fate eh Però se fate un editing 4K Tutti i giorni E tutti i giorni dovete generare Nuovi video Invece andate sul MacBook Pro Però devo ammettere che finalmente si vedono In questo MacBook Air Un po' di sane prestazioni Chiaramente tutto questo Ha un lato negativo Un rovescio della medaglia Chiamatelo come volete Non è più un MacBook Air La denominazione Air Deriva dalla sua perenne qualità Di essere estremamente sottile In questo caso Non è così Come ho già detto È molto simile esteriormente A un MacBook Pro Da 13 pollici E parlando di spessore Nel loro punto più spesso Il MacBook Air del 2018 È addirittura più spesso Del MacBook Pro Da 13 pollici base Quello senza touch bar Sono 156 mm Contro 149 mm Lasciate che vi spieghi Cosa ha fatto Apple Per creare questo nuovo MacBook Air Ha ascoltato l'opinione pubblica L'opinione degli utenti Che da anni Volevano un nuovo MacBook Air Al passo con i tempi Ha preso il modello base Di MacBook Pro Da 13 pollici Quello senza touch bar Ci ha messo un processore Leggermente meno potente Ma con una scheda video Integrata Leggermente migliore Ha diminuito la luminosità massima Ha inserito una batteria Leggermente più capiente Sulla parte frontale Ha cancellato la scritta Pro E c'è scritto Air E ha abbassato il suo prezzo Di 170 euro Boom Perché questo MacBook Air È assolutamente paragonabile A un MacBook Pro Da 13 pollici base Che non è per forza Un fattore negativo Però è come se ormai Queste due linee di Mac Si sovrapponessero Se ci pensate In effetti Il vero MacBook Air Ovvero quello famoso Per essere estremamente sottile Come un foglio di carta È il MacBook Da 12 pollici Ne Pro Ne Air Il suo problema però È che è estremamente sovrapprezzato Soprattutto in questo periodo Perché rispetto al MacBook Air Non ha il Touch ID Ha uno schermo più piccolo Ha un processore Decisamente meno potente E costa molto di più Stiamo parlando di 1549 euro Sono 170 euro in più Per un prodotto inferiore Sotto tutti gli aspetti Se non per il fatto che appunto Il MacBook da 12 pollici È estremamente portatile Ecco cosa ne penso quindi Del MacBook Air del 2018 Mi piace Mi piace molto Perché finalmente Quando vado a scuola Quando vado dal commercialista O quando so Che comunque durante la giornata Starò fuori Potrebbe servirmi un laptop Ma non per eseguire video editing O lavori pesanti Mi porto dietro questo E non il MacBook Pro Da 15 pollici Che ho a casa Ed è molto più leggero Molto più comodo Da maneggiare Però non è niente di nuovo È come se fosse un MacBook Pro Economico E adesso in effetti capisco Come mai Apple Si è rifiutata di rendere L'iPad Pro Un vero e proprio computer A tutti gli effetti Perché come io avevo intuito E avevo detto Nella sua recensione È stata una scelta Più che volontaria Apple ha voluto Limitare volutamente Sull'iPad Pro Alcune funzioni Di modo che appartenessero Comunque solo al MacBook Perché altrimenti Tra un iPad Pro E un MacBook Air Avrei scelto un iPad Pro Perché ti dà molto più Quell'effetto novità Però l'iPad Pro Non è un computer È un tablet Quindi se state cercando Un laptop per scuola Famiglia Lavoro d'ufficio Utilizzo per Netflix YouTube Blogging E perché no Anche qualche lavoro grafico Con Photoshop e Lightroom Ed avete l'esigenza Di avere il sistema operativo Mac OS Anziché Windows Sicuramente questo è un ottimo momento Per acquistare il nuovo MacBook Air E questa ragazzi Era la mia recensione completa Su di lui Spero che vi sia piaciuta Se fosse così Fatemelo sapere Lasciando un bel pollice in su Che mi renderebbe Veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network E come sempre il link Ve lo lascio qua sotto giù In descrizione Cliccando qui ai lati Potete raggiungere altri miei due video Invece cliccando qui al centro Vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo In un prossimo video In un prossimo video